Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale, era da un po' di tempo che non facevo un video di questo tipo, un video in cui chiacchieriamo senza FIFA, senza niente diciamo in sottofondo, ma parlando proprio direttamente e ne avevo bisogno, l'ultima volta l'avevo fatto un po' di mesi fa, quindi c'era bisogno un po' anche di aggiornarsi, di prendersi un attimo una piccola pausa per insomma chiacchierare anche un po' nei commenti e parlare un pochettino. Cosa che comunque riesco a fare un po' di più su Instagram dove non ve lo chiedo praticamente più, però insomma se volete potete seguirmi là perché siete aggiornati anche su cose diciamo extra canale, cose in più anche se insomma sono sempre abbastanza riservato, quindi non vi aspettate di vedere scupe, cose incredibili, però insomma se vi fa piacere seguirmi anche per vedere quando escono i video potete farlo, ovviamente iscrivetevi a tutta la campanellina perché così potete ricevere gli aggiornamenti dei video ovviamente se vi interessa. E niente, partiamo con insomma le cose essenziali di cui ho bisogno di parlarvi, ora il titolo del video non so quale sarà ma potrebbe essere un titolo che potrebbe spaventarvi, quindi parto subito col dirvi che non vi dovete preoccupare perché non mi sto fermando con il canale, ma anzi sono veramente molto 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 contento di come stiamo andando ultimamente perché sono contento della direzione che sto prendendo con il canale, sono contento dei contenuti che sto portando e sono contento anche di come li state percependo, di quanto vi stiano piacendo, leggo sempre i commenti e insomma vedendo anche i numeri credo che i contenuti stiano piacendo. Stiamo anche vicini ai 100.000, non so quando ci arriveremo, purtroppo con gli iscritti siamo abbastanza bloccati anche se comunque siamo sempre in crescita, lenta ma siamo sempre in crescita, ma piano piano ci arriveremo, non mi fermerò mai finché non arriverò a questi benedetti 100.000 iscritti perché ci siamo veramente troppo troppo vicini. E niente, ripeto, sono molto contento dei contenuti e volevo rispondere e insomma parlarvi anche della questione ma la carriera con il Nottingham perché anche ultimamente sto vedendo tanti commenti in cui mi chiedete la carriera con il Nottingham, quando arriva la carriera con Nottingham, l'ultimo episodio non mi ricordo quando l'ho caricato ma saranno 2-3 settimane che non carico un episodio con il Nottingham, abbiamo caricato il primo episodio della scuola stagione, abbiamo chiuso la prima stagione parecchio tempo prima dell'uscita del primo episodio della scuola stagione e essendo ormai praticamente a luglio e calcolando che nella mia testa questa carriera con il Nottingham doveva finire massimo entro, diciamo, non dico l'inizio di luglio ma entro metà luglio doveva finire perché avevo in mente appunto di portarvi un'ultima serie un po' diversa anche perché insomma siamo già d'estate e portare una carriera tra virgolette normale diventava un po' pesante, avevo in mente appunto di chiuderla a metà luglio, cosa che però non sono riuscito a fare per diversi motivi, diciamo che mi è slittato un po' tutto il mio piano con il trasferimento che insomma vabbè se mi seguite avete visto che lo studio un po' è cambiato ma ho cambiato casa, ho cambiato città, ci sono stati tanti cambiamenti quindi insomma piano piano mi sono un po' assestato, tra l'altro nuovo studio che vi vorrei mostrare, vorrei fare un video se vi interessa ovviamente ma anche se non vi interessa lo porterò comunque però insomma volevo portare un video in cui vi faccio vedere un po' lo studio, vi faccio vedere un po' l'attrezzatura che ho perché so che magari a qualcuno potrebbe interessare ma anche un po' un video per me stesso per insomma vedere un po' gli aggiornamenti che faccio piano piano anche perché non vi ho mai fatto vedere un mio studio ed è una cosa che mi dispiace tanto perché mi sarebbe piaciuto anche averlo io come diciamo archivio, come ricordo da poter andare a vedere per vedere i vari step che ho fatto però lo voglio portare, spero di riuscire a portarlo per luglio, ripeto tra le tante cose che ho dovuto fare ultimamente sono in questa casa da praticamente tre mesi, tre o quattro mesi, insomma volevo farlo prima ma non sono riuscito perché non è completo cioè non è completo come volevo farvelo vedere, come era nella mia testa, mi sono fatto la mia postazione, la postazione c'è, scrivania nuova, il computer è sempre quello ma insomma anche quello andrebbe un po' aggiornato, c'è un po' di roba da farvi vedere ma vorrei anche qua attorno mettere un po' di roba che mi interessa un po' di cose che vorrei vedere nello studio e spero di riuscire a farlo in questo luglio massimo per agosto altrimenti andiamo direttamente a settembre e vi faccio vedere lo studio, altrimenti se vi interessa potrei anche farvelo vedere adesso com'è vi avviso già che è abbastanza vuoto, così voi nei commenti potete darmi anche dei consigli o io magari vi dico le idee che avrei e magari potete darmi dei consigli, dei suggerimenti, cosa vi piace, cosa non vi piace e magari tra qualche mese quando lo studio sarà diciamo aggiornato, completato potrei fare un altro video aggiornamento in cui vi faccio vedere insomma i progressi dello studio ovviamente ditemi se vi può interessare, l'ho pensata adesso questa idea tornando al discorso principale, quello della carriaconi in Nottingham come avrete già capito da come sto parlando ho preso la decisione di fermarla quindi l'episodio che avete visto, l'ultimo che è uscito sarà anche l'ultimo di questa serie che mi dispiace bloccare qua però era una serie che aveva bisogno di ancora troppi episodi fosse stata una squadra in cui con questa ultima stagione, questa seconda stagione potevamo chiudere i discorsi l'avrei chiusa ma con il Nottingham mi servivano almeno oltre a questa seconda stagione che ho iniziato almeno altre due stagioni, facendo proprio le cose veloci avrei fatto una sola terza stagione ma non ce la faccio proprio con i tempi perché gli episodi per quanto voi pensiate che siano corti ci metto tanto a farli, diciamo che tra il registrare, l'editare, fare le grafiche, fare tutto poi vedete lo stile di editing che è un po' più elaborato, ci metto almeno un paio di giorni interi tra registrazione, editing e tutto, faccio tutto da solo quindi ci vuole un po' di tempo ma ci tengo perché voglio che i contenuti siano di qualità mettiamoci anche il fatto che già gli ultimi episodi comunque stavano ricevendo un po' meno riscontro da parte vostra, da parte insomma del pubblico poi diciamo che le carriere solitamente vengono seguite da coloro che seguono il canale e ultimamente sto cercando di concentrarmi di più su contenuti anche un po' più leggeri, più immediati un video che insomma potete vedervi senza aver l'impegno di guardarvi ogni tot giorni un episodio quindi una serie comunque che dura nel tempo preferisco insomma portarvi contenuti che sinceramente mi diverto anch'io sono più stimolato a portare non chiudiamo qua con le carriere però perché ho già in programma in realtà ho già pronto il primo episodio, il secondo lo sto già lavorando una serie, una tra virgolette mini serie che in realtà sarà un road to glory veramente immenso ci sto lavorando in realtà da un po' di tempo e sarà praticamente la serie dell'estate perché non voglio portare soltanto rifondazioni e contenuti insomma di quel tipo ma una serie la voglio sempre portare sarà probabilmente una serie che ci accompagnerà durante l'estate per poi arrivare a settembre, tra settembre e inizio ottobre con l'arrivo del nuovo EA Sports FC dovrebbe esserci il reveal da parte di EA Sports tra meno di due settimane si parla della carriera online, da carriera allenatore online che se venisse confermata può essere veramente una figata sia per voi che giocate ma soprattutto per noi content creator per poter fare contenuti, collaborazioni potrebbero uscire delle figate ma speriamo che EA Sports non ci deluda perché è dietro l'angolo, l'inculata quello che devo dirvi vi ho detto sono contento della decisione che ho preso spero non dispiace a troppi di voi perché so che comunque era una carriera che a molti stava piacendo però ho fatto la scelta migliore perché sapevo che me la sarei trascinata tra luglio e sarei arrivato ad agosto a fare un contenuto che sicuramente sarei arrivato ad un certo punto in cui i numeri sarebbero stati troppo bassi per la mole di lavoro che ci voleva e preferisco questa serie perché è arrivato fino alla fine vi faccio anche uno spoiler sarà un Road to Glory in Inghilterra quindi comunque continuiamo il filone inglese anche se interrompiamo con il Nottingham partiremo dalla Vanarama League dalla quinta divisione inglese con una squadra che ancora non vi dico ma comunque è una squadra mediaticamente molto molto conosciuta diciamo che così vi ho già dato uno spoiler enorme la serie partirà venerdì prossimo alle ore 14 uscirà il primo episodio e uscirà un episodio ogni settimana ogni giorno il venerdì alle ore 14 quindi voi ogni giorno cioè ogni settimana ogni venerdì alle ore 14 andate sul canale e sapete di trovare un nuovo episodio di questa serie e in ogni episodio ci sarà un'intera stagione quindi capite che in questo modo nel giro di tra luglio e agosto riusciamo a chiudere questa serie senza troppi problemi quindi qua sotto mi raccomando commentate dicendomi tutte le cose che vi ho chiesto quindi sulla carriera con il Nottingham mi dispiace che l'ho interrotta ma era necessario spero la maggior parte di voi siate d'accordo poi so che non raccontenterò tutti ditemi anche ovviamente riguardo la questione dello studio se lo volete vedere se vedo che lo volete già nei prossimi giorni potrei portarvi il video perché non devo far niente se non farvi vedere appunto lo studio e parlarvelo un po' e niente ragazzi noi ci vediamo a questo punto credo lunedì con un nuovo video e buon weekend e poi ci vediamo venerdì mi raccomando alle ore 14 con il primo episodio del nuovo Road to Glory ciao a tutti ragazzi ciao a tutti